Buongiorno cari amici di Visione TV, benvenuti all'ultimo controcanto della settimana. Oggi è venerdì 23 dicembre, continua a tenere banco la visita di Volodymyr Zelensky in America, che in un primo momento ha vinto l'enfasi, la suggestione, tutti i giornali occidentali decantavano questo personaggio, paragonato persino a Winston Churchill, il premier inglese che sconfisse il nazismo. Con il passare dei giorni e delle ore l'enfasi lascia il passo alla realpolitik, la realtà è che Zelensky è tornato in patria di fatto a mani vuote, non solo, non ha ottenuto tutto quello che aveva chiesto, ma ha persino riscontrato l'ostilità di buona parte del congresso americano, in particolare di quell'ala che risponde a Donald Trump. Vediamo come apre la Repubblica dei Transumani, il giornale degli El Canagnelli, diretto da Maurizio Sambuca Molinari. Eccolo qua, dice, una manovra da riscrivere, la ragioneria impone 44 correzioni al testo della maggioranza, dice, sbagliato anche l'emendamento per la stretta sul reddito di cittadinanza. Il governo pone la fiducia letta, dice, la più pasticciata degli ultimi vent'anni. Meloni dice, errore dipendere dagli USA per la sicurezza. Andiamo alle pagine interne, perché c'è questo articolo, questo approfondimento, del corrispondente di Repubblica a Washington, che si chiama Paolo Mastrolindo, dice, il viaggio a Washington, Zalesky al congresso seduce l'America, ma non i trampiani. Dice, il presidente ucraino strappa applausi con riferimento alla lotta ai nazisti, dice, però fallisce l'obiettivo di convincere l'ala più dura dei repubblicani. L'appassionato discorso di Zalesky al congresso americano, dice, ha toccato gli statunitensi, ma non ha cambiato l'umore dei repubblicani trampisti più malmostosi. Ecco, per cui, quelli che sono lì pronti ad applaudire Zalesky, che non vedono l'ora di sentirlo parlare, che poi ripete sempre le stesse fregnacce della lotta al nazismo, lui al fiere della difesa del mondo libero, contro le autocrazie, ecco, quelli che non si bevono le stupidaggini di questo personaggio, per Mastrolindo sono malmostosi. Quelli che per interessi di politica interna, se non per vantaggi personali, ecco, quali sarebbero i vantaggi personali di chi non si accoda, diciamo, al coro un po' bovino, caro Mastrolindo, di chi applaude Zalesky? Che vantaggi ha chi prova a cercare di capire anche il punto di vista russo? Ecco, ti ricordo che invece tutti quelli che hanno provato a porre un freno all'arroganza della Nato sono stati bollati come avversori, sono stati insultati, diffamati, in alcuni casi schedati, minacciati. Per cui, quali sarebbero, caro il mio scienziato, i vantaggi personali addirittura di chi non si accoda a questo teatrino che trasforma un personaggio molto mediocre e pericoloso come Zalesky in un grande statista? Lo sai tu? Ce lo vuoi dire, Mastrolindo? Va bene, quindi dice che non gli è andata benissimo, si domanda quanto questa fronte interna riuscirà a deragliare l'assistenza futura, tenendo presente che a gennaio il GOP, che sarebbe il Partito Repubblicano, assumerà la guida della Camera. Ecco, fino a quando Biden negherà le armi offensive richieste dagli aggrediti, dopo aver cambiato linea sui Patriot. Anche questa è una domanda idiota. Cosa vuol dire le armi offensive? Cioè, significa forse che l'America deve preparare gli Stati Uniti, la Nato, devono preparare un tentativo di invasione dentro il territorio russo, fornendo agli ucraini, a questo punto individuabili come esercito alleato, delle armi in grado di arrivare fino a Mosca, cioè questo dovrebbe fare Biden. Vedi che devi occuparti d'altro, perché fai il giornalista, no? Quando eri piccolo, magari i genitori ti dicevano, che vuoi fare Paolo da grande? Tu dicevi il giornalista, non ti potevano iscrivere magari da un'altra parte a un corso di cucina, magari oggi sarei stato un bravo cuoco. Come i soldati americani durante il Natale del... Ecco, anche qui, no? Quando il tuo professore di storia spiegava, tu evidentemente rimbagna a fumare, perché solo uno che non sa niente della storia si può avventurare in un paragone così deficiente. Ecco, nel Natale del 44 fermarono i nazisti sulle Ardenne, così quegli ucraini combattono contro i russi per salvare libertà e democrazia. Il paragone più forte fatto da Zeleschi mercoledì al... Come questo si meriterebbe un passaggio del genere in un mondo normale, scatenerebbe una valanda di pernacchie proprio da inquinamento acustico, per convincere il popolo americano che la guerra lo riguarda da vicino. Non sono soldi dati in beneficenza, ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia. Parla di democrazia uno che ha chiuso tutti i partiti di opposizione, tutte le televisioni che non dicono che è fantastico, che è arrivato al potere in un paese che ha visto cambiare completamente la linea geopolitica sulla base di un golpe orchestrato da Vittoria Nuland, dai neoconamericani, e ha il coraggio, cioè si appoggia a una serie di nazisti conclamati che venerano il collaborazionista a bandera, e ha il coraggio di ergersi a difensore del mondo libero, libero contro l'aggressore nazista. Vi dovete ricordare che i nazisti veri, i nazisti veri, non questi qua da Operetta, sono stati sconfitti dai russi al costo di oltre 20 milioni di morti nella grande guerra patriottica, per cui prima di fare questi parallelismi ridicoli, stupidi, offensivi, dovreste leggere almeno una pagina di storia, idioti che non siete altro. Zelensky quindi ha definito la Russia uno stato terrorista, ecco, che potrebbe fermare l'aggressione se volesse, ha ricordato il suo piano di pace in dieci punti, discusso con Biden, ma Putin non l'ha scordato. Il piano di pace di Zelensky sarebbe che i russi se ne vanno dappertutto, restituiscono persino la Crimea, che è territorio russo da sempre, che era stata regalata all'Ucraina in epoca sovietica, dentro uno schema che è molto diverso da quello di oggi, però, guarda caso, Putin non accetta questa proposta così vantaggiosa, ecco, come mai non accetta? Strano, ecco, loro propongono di prendergli tutto, di farlo tornare a casa, di continuare a minacciarlo, di fare in modo che il suo paese rimanga continuamente sotto il bersaglio di forsenato, ecco, però lui stranamente non vuole. Quindi ha teso la mano ai cittadini russi, dicendo che anche loro, ecco, guardate che dolce, eppure generoso, potranno essere liberi quando sconfiggeranno il Cremlino nelle loro menti. Ecco, nelle loro menti lo devono sconfiggere, ecco, non era un missile russo che è caduto, e qua, state tranquilli, niente di particolare. Ecco, non ha convinto tutti però, è strano che uno è così intelligente, tanto per cominciare, dice, solo 86 dei 213 parlamentari repubblicani sono venuti ad ascoltarlo, ma questo ripete sempre la stessa storia, dice sempre le stesse cose, fa sempre gli stessi paragoni, è da un anno che se ne va in giro come una Madonna Pellegrina, in tutti i parlamenti d'Italia, voleva parlare persino, meno male che la FIFA non l'ha fatto parlare, cioè, voleva parlare persino alla Coppa del Mondo, voleva uscire lui a tirare il calcio di rigore al posto di Messi, lo voleva tirare lui in Mondovisione, per fare vedere, magari facciamo il titolo, fai un gol a Putin, cioè uno che non ha il senso del limite, non ha manco il senso del ridicolo, e quindi ha stancato, perché è una cosa che a un certo punto diventa esasperante, stanca, per forza che nessuno è andato a sentirlo. La deputata Taylor Greene ripresenterà la sua risoluzione per bloccare gli aiuti all'Ucraina. I colleghi Gatz e Boebert sono andati al discorso, ma senza applaudire, e lui alla fine ha detto, bravo, Zelesky, mettere il suo paese davanti a tutto, i politici americani non vogliono fare lo stesso per il nostro, argomento populista, ripetuto alla nausea dal propagandista di Fox News, Tucker Carlson. Il presunto nuovo speaker, Kevin McCarthy, che ha bisogno dei voti dalla destra di Trump, per essere confermato, ha incontrato Zelesky, ripetendo però che non farà, non firmerà segni in bianco in Ucraina. Gli unici che sono rimasti aggrappati al bidone sono i vecchi repubblicani, quelli diciamo di rito busciano, ecco i vecchi neocon, uno degli ultimi giapponesi rimasti è questo leader del Senato, McConnell, che invece dice che sosterrà l'Ucraina, anche questa è una priorità americana, vista la maggioranza risicata del GOP alla Camera, è difficile che i filorussi riescono a prevalere, diciamo che possono rallentare le forniture. Biden intanto ha concesso i Patriot, ma ha negato i missili, i droni, i carri armati, ecco, sembra un bambino che a Natale va a chiedere i soldatini per giocare, nonostante i 45 miliardi di ieri, dice la missione di Zelesky, resta in salita. E forse sarebbe il caso di cominciare a dire la verità a questo personaggio pericoloso, e cioè che non può vincere sul campo, a meno che non entri direttamente in guerra alla Nato, ma chi vuole davvero scatenare una guerra mondiale tra la Nato e la Russia? C'è chi vuole trasformare un conflitto regionale in una guerra mondiale? Ecco, è solo questo personaggio che poi fa di tutto per cercare di allargare il conflitto. Vi ricordate la false flag dei missili russi caduti in Polonia? Vi ricordate quello che diceva all'indomani del sabotaggio del gasdotto North Stream? Cioè questo personaggio è pericoloso perché farà di tutto fino alla fine per creare le condizioni per un allargamento del conflitto, visto che non può, non vuole o nessuno gli ha spiegato che non potendo vincere la guerra sul campo non può pensare di trascinare tutta l'Europa e gli Stati Uniti d'America dentro un conflitto che il risultato di errori che sono stati commessi lì non è vero che ci sono dei difensori della libertà che combattono contro il ritorno del nazismo. Se fosse vero questo avrebbe un senso immaginare uno scontro globale fra ideologie che non possono trovare una sintesi ma siccome non è vero che esistono dei mostri che sono russi e dei santi che sono ucraini che combattono per la libertà questa ricostruzione di Zelensky va respinta nella maniera più chiara e radicale possibile. Quando la finisce questo personaggio di andare in giro a dire fesserie sarà sempre troppo tardi. Andiamo a vedere questo... Ecco, eccolo qui, forse ce l'abbiamo fatta. Guardate questo reportage qua di Repubblica. che è un'altra cosa ridicola. Lo scrive Fabio Tonacci che è scatenato in questi giorni. Ieri ci raccontava la storia del soldato docile nelle mani degli ucraini che viveva col topo, si era affezionato al suo carceriere cosacco. Oggi racconta in maniera del tutto surreale quello che accade a Bakhmut. In trincea a Bakhmut, Stalingrado-Ucraina, dice ossessione di Putin. Con il soldato semplice Olexi che racconta i combattimenti ravvicinati nella città, dice il Cremlino deve vincere qui per dimostrare al popolo che la Russia non sta perdendo. Ecco qui. La chiamano la Stalingrado-Ucraina. Ecco, comincia subito mentendo. Ma di quale Stalingrado stai parlando? Ma quale Stalingrado-Ucraina? Ma come fai a paragonare questo conflitto con la Seconda Guerra Mondiale? Ma ti rendi conto che la tua è pura propaganda, che non ha nessun senso? Ti rendi conto che ti copri di ridicolo nel continuare a cercare di dipingere davvero Zaleski come se fosse un nuovo Churchill e Putin come se fosse un nuovo Hitler? Quando la finirete voi di Repubblica? Siete quelli che avete proprio meno senso del pudore. Il Donbass è nostro, sarà schiacciato, dice Putin, secondo Tonacci. Bakhmut la sarà schiacciata presto, lo dicono i generali di Putin. Il piano era annichilirna e farne la base d'assalto a ciò che resta di libero nel Donetsk, la città di Kramatorsk e Sloviask. Le cose sono andate diversamente, il fronte si è inceppato a Bakhmut. Secondo l'intelligence britannica è il regalo di Natale che Putin vuole portare alla Russia per dimostrare che la guerra non la sta perdendo. Vi ricordate come a maggio scrivevano le stesse fesserie, in vista della grande parata? Putin vuole qualcosa da offrire al popolo per festeggiare, ha bisogno di una grande parata per dare l'impressione che la Russia sta vincendo, invece poi durante i festeggiamenti per la grande vittoria della guerra patriottica non fece neppure un accenno. Sono tutte mistificazioni, sono tutti imbrogli. Ora secondo voi Putin ha bisogno di andare lì a dare, a offrire lo scalpo di una città come Bakhmut per compensare il clima di terrore che secondo questi personaggi si è instaurato a Mosca? Questa è solo propaganda, non c'è nulla di vero in quello che racconta. Ecco, prima di rivolgersi alla nazione per la fine dell'anno vuole almeno un trofeo, ecco, vuole almeno uno. Quindi gliel'ha detto chiaramente Putin, ha chiamato i generali, gli ha detto sentite io lo devo portare un trofeo ai Moscoviti, quindi pigliatemi Bakhmut ad ogni costo perché vuoi mettere, se uno a Natale prende Bakhmut fa la sua figura. No, una cosa è presentarsi a mani vuote, una cosa è dire no, però tutto sommato c'è Bakhmut con me. ha concentrato qui le sue divisioni migliori Putin, l'artiglieria più letale, i mercenari più feroci che puntano il Kalashnikov contro i commilitoni che tremano. Lo fece anche Hitler, ecco, torna ancora questo ritornello. Nell'inverno del 1942 spostò a Stalingrado il grosso della Wehrmacht, indebolendo il fronte orientale, dice un errore fatale. Ecco, Olexi, Olexi è il soldato ucraino che sta eroicamente, secondo Tonacci, fronteggiando questi feroci mercenari russi e cammina a quattro zampe. Non sappiamo se è un'usanza lì, se è un rito propiziatorio, però lo saluto Tonacci, non so se a quattro zampe era già prima che arrivasse Tonacci o se è messo quando è arrivato, però lo testimonia Tonacci, dice che arranca a quattro zampe, impreca e sbuffa, e cosa gli penetra nei guanti? Nei guanti gli penetra il fango e il tepore della polvere riscaldante. Non vogliamo sapere che tipo di polvere sia. Niente sa questo ventunenne timido che voleva fare il commercialista del grande fiume Volga, dell'abisso che inghiottista l'ingrado in sei mesi di battaglia. Ma perché tu cosa sai di quella battaglia Tonacci? Ecco, tu forse sai meno di Olexi. Ecco, questa è una foto evidentemente di Olexi, che in questo caso non è a quattro zampe, si è alzato proprio per fare la foto. Ecco, la potete vedere in questo momento. Vedete che Repubblica la fa vedere. Olexi crede solo a ciò che vede nella trincea, quindi segue gli insegnamenti di San Tommaso, crede solo in quello che vede. Sbirciando oltre l'orlo del terreno appare uno spettacolo ipnotico e terrificante. L'avrà detto cento volte Stalingrado, Hitler, la Wehrmacht, ancora colonne di fumo si alzano a pochi metri da me, pezzi di razzo, rotolano dentro al buco, ma si tratta del razzo. Ci sparano addosso. Il mio turno dura 24 ore. Ecco, sto lì, mi riscaldo con una candela, prego che non mi colpiscono. Ecco, non so come fare a descrivere. Questa è la parte, diciamo, ha fatto una prima parte, diciamo, pseudostorica di quest'articolo, naturalmente una serie di stupidaggini colossali. Adesso però passa al surreale, al genere fantasy. Allora, dice che a un certo punto Olexi vuole raccontare una cosa, dice però non sa come fare, perché non sono scrittore, però lui lo invita, Tonaccia non arrende, dice provaci ancora Olexi. Un giorno nebbioso, un giorno di pioggia, c'era Andrea e Giuliano, incontrano Olexi per caso. Mi pare un mercoledì, non si vedeva niente. All'improvviso però, i russi, cioè non vedeva niente, però ha visto che erano russi, che saltavano fuori dalle trincee, correvano verso di loro, allo scoperto, senza un motivo, e sono stati uccisi tutti dal mitragliatore. Cioè, secondo Olexi, questi russi sono matti. Cioè, un mercoledì, di nebbia, evidentemente la nebbia dà la testa ai russi. Erano in trincea, a un certo punto si annoiavano, forse hanno fatto una scomma, non si sa. Hanno cominciato a correre, senza neanche sparare, proprio in avanti, contro gli ucraini che sparavano, e si facevano ammazzare. Dice, non ho mai visto una cosa del genere, eccolo qua, erano zombie. Dice, non finivano mai, ecco, come i rotoloni reggina erano. Correvano sempre contro gli ucraini, e si facevano sparare così, erano stanchi, forse, non si sa perché lo facevano, però lo facevano. Correvano incontro alla morte. Ed è durata, ecco, quindi voi immaginate questa scena, che è durata, lo dice Olexi, che sicuramente è preciso e non sbaglia, dalle 2 del pomeriggio fino alle 3 di notte. Quindi alle 14, subito dopo pranzo, i russi sono usciti dalle trincea, hanno cominciato a correre verso le mitragliatrici ucraine, si sono fatti ammazzare tutti, dalle 2 di pomeriggio alle 3 di notte. Quindi saranno morti, non so, un milione. Voi immaginatevi tutti questi che corrono per farsi ammazzare fino alle 3 di notte. L'ultimo è arrivato proprio alla fine, perché stavano chiudendo, gli erano rimaste 2-3 pallotto, le si è fatte ammazzare proprio all'ultimo secondo, perché altrimenti avrebbe chiuso l'Ucraina, non avevano più voglia di sparare dopo 20 ore. Un cadavere, diceva, aveva la stemma della Wagner. Ora, secondo voi, questo è un racconto, è una cosa che non ha... che valore ha ora? Che cosa significa? Che sono matti? Che significa? Che sono un gruppo di pazzi, di gente che corre così per farsi sparare, per quale motivo? Cioè, che credibile, che senso ha, che logica ha questa testimonianza? Dice, il pensiero torna di nuovo, ecco, guarda caso, che fantasia che ha a Stalingrado, ecco, torna sempre a Stalingrado, all'Unione Sovietica, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque questo è il racconto di Oleksi, e dice che comunque non arretreranno mai e che si va avanti così, ecco, che ti segue la guerra come un'ombra nera e non si arretra, va sempre avanti. Ecco, questi non sono reportage. Reportage sono quelli che fa Giorgio Bianchi, quelli sono racconti. Questa si chiama propaganda, peraltro fatta male, perché io mi rendo conto che voi, insomma, dovete pure campare, quindi è chiaro che ve li suggerisce l'intelligence inglese, questi pezzi, però nell'esagerare con queste storielle ottenete l'effetto inverso, perché se tu racconti la storia di qualcuno e ti sporsi di renderla credibile, magari ne sottolinei l'eroismo, prendi un fatto vero, lo esalti, oppure minimizzi una sconfitta, lo capisco, ma che tu ti metti a dire che c'è uno a quattro zampe là, che vede i russi che sono matti e corrono per venti ore contro i fuggili ucraini, senza un vero motivo, chi ti può credere? No, una pernacchia ti possono fare, donaci, dai, cerca di migliorare pure tu, che ti pagano a fare per scrivere queste pezzerie? Andiamo avanti, anzi, lasciamo la Repubblica dei Transumani e andiamo a leggere il Corriere della Sera, ecco il giornale diretto da Lachi Luciano Fontana, dice non useremo il salva stati, conti pubblici, dice stasera il voto di fiducia alla Camera, dice la Premier, nessuna catastrofe, Letta dice legge pasticciata, Meloni, l'Italia non accederà al Messe, ecco pure un po' truce Meloni, dice che firma con il sangue, caos, manovra, altre 44 correzioni. Ecco, questa è la notizia più importante di oggi, che riguarda Gigino Di Maio, voi sapete che Luigi Di Maio è andata male per lui, le elezioni non sono andate benissimo per il povero Di Maio, però il potere non lo ha abbandonato, perché lui, insomma, non vuole tornare al San Paolo a vendere bibite, giustamente dopo che ha fatto il Ministro degli Esteri, e siccome si è sacrificato, questo si è, insomma, fatto una carriera da kamikaze, pur di tenere lì Draghi, ha distrusi, ha fatto cacciare al Movimento 5 Stelle, ha fondato un partitino che non ha contabacci, che non ha preso neanche lo 0-4, adesso questo poveraccio che fa? È giovane, ancora non è che se ne può andare ai giardinetti, e quindi stanno cercando il modo per rimetterli in pista, e lo scandalo Katargate in un certo senso lo aiuta, perché doveva andare in Europa, doveva andare in Golfo Persico, questo Dimitris Avramopoulos a prendersi sto posticino, e invece lo scandalo Katargate rimette al centro di queste dinamiche internazionali l'ottimo Gigino Di Maio. Ecco, ce lo spiega questo articolo di Paolo Valentino, dice che lo scandalo Katargate ha rilanciato le quotazioni dell'ex ministro degli esteri, altro candidato eccellente, dice che tra l'altro è il primo della shortlist selezionata dal panel incaricato di vagliare i nomi in ballo. Contro Di Maio gioca però la presa di distanza del capo della Farnesina, Antonio Tajani, il quale già all'esordio aveva messo le mani avanti dicendo che il suo predecessore non è il candidato di questo governo, ma lo era di quello precedente. Dice, importante sottolineare, continua Valentino, che non si tratta di nomina governativa, cioè il Corriere cerca in tutti i modi di salvare il soldato Gigino, questo povero Gigino che è rimasto senza fare niente, sembrava, diciamo, un infant prodice della politica italiana, ora sembra Luigi da rabbia, come Totò da rabbia, lo devono mettere da qualche parte che non sa che fare, e sta cercando il Corriere in qualche modo di salvare questo poveraccio che si è immolato nel nome del venerabile Mario Draghi. Ecco, non è una nomina governativa, dice, nel senso che non c'è una casella che diversi governi cercano di occupare con un nome loro, ecco, come dire, non è che lo deve scegliere Tajani, no, lo possiamo scegliere direttamente per il tramite del politico europeo, anche se il governo italiano non lo vuole, perché Gigino è Gigino, non è espressione del potere nazionale, è una candidatura, ecco, quindi, non è una nomina politica, si accede, lo dice Valentino, e qua fa ancora più ridere la questione, per titoli, e viene valutata sul piano tecnico, ecco, quindi, no, quindi sta dicendo, però guardate che vi fate male da soli così, no, era meglio se dicevate che era raccomandato, perché se dovete sostenere la tesi che mandano Di Maio perché è il migliore e che capisce di più di energia, fate ridere i polli, perché questo è uno che Xi Jinping lo chiamava Ping, non indovina in congiuntivo manco se ha un sussidiario davanti e legge, che titoli ha questo, cioè non capisce, forse non sa manco dov'è il Golfo Persico, per questo, dice, non è esatto dire che sia stato Mario Draghi a lanciare la candidatura di Gigino, ecco, quando, allora, voi sapete che le cose che si negano sono quelle che si affermano, quindi è chiaro che è andata così, lo nega, no, mettendo le mani avanti Valentino, ma questo che sta negando invece è la realtà, dice, non è una compensazione per il sacrificio di Di Maio che ha pagato cara la scissione dei 5 Stelle per sostenere il suo governo, il che non significa che l'ex Presidente del Consiglio non l'abbia appoggiato, ecco, impegnandosi massicciamente come sostiene The Speaker, no, più verosimilmente, dicono le fonti, esprimendosi in senso positivo con Borrell, il quale ha chiesto referenze su Di Maio, così come ha fatto su tutti gli altri, ecco, difficile immaginare che l'ex Premier non parlasse bene del capo della sua diplomazia. Ora, se questo lo devono nominare per titoli, che titoli c'ha Di Maio, a parte una buona abbronzatura, vi ricordate che l'estate scorsa era bella abbronzata, poi l'ha lasciato pure la ragazza, mi pare, Virginia, però insomma il mare stava bene, poteva essere scambiato per uno che conosce il governo, era bella abbronzata, in realtà nei mesi estivi di Maio, ecco, quando non si metteva la crema solare, ha studiato, ecco, quindi sta studiando, non è che non lo mandano lì per niente, sta studiando, sta sgobbando pure e si fa aiutare da alcuni coach di assoluto livello, e chi è che l'aiuta? Non so, Deschamps, Scaloni, chi è che lo sta allenando? Fra questi, ah, ecco chi lo sta allenando, il segretario generale della Farnesina, Ettore Sequi, quindi lui in questo momento è con Sequi, con l'Esequi, sta lì, questo gli fa le domande a trabocchetto, lui risponde, si impegna, mette il voto, va dietro alla lavagna, insomma non è vero che non fa niente, mentre voi giocate Di Maio studia per diventare responsabile dell'energia nel Golfo Persico, decisivo nella fase di preparazione della candidatura, due altri allenatori, sono uno Lino Banfi probabilmente, e l'altro Andrea Roncato, o Gigi, che non è Gigi di Gigi Andrea, perché ha lo stesso nome di Di Maio, magari si capiscono, c'è anche un altro allenatore, l'ambasciatore Stefano Sannino, segretario generale del SEAE, Servizio Europeo per l'Azione Esterna, ecco, quindi di fatto il vice di Borrell, c'è anche un altro, guardate c'è una squadra, c'è un Dream Team Di Maio, che si chiama Fernando Gentilini, che è un diplomatico italiano distaccato al SAEA, dove ha diretto il DESC per Medio Oriente e Nord Africa, nonché autori di libri interessanti, cioè con allenatori così, perché non lo dovete nominare, se questi lo allenano dalla mattina alla sera, no? Come faceva quello lì Roberto con Olli di Olli e Benji, la preparazione è andata a buon fine, quindi allora, l'hanno allenato, amici, ascoltate, perché io vi conosco, so, conosco la vostra malizia, voi dite, questo è un raccomandato, non sa niente di Medio Oriente, non sa niente di energia, è un ignorante totale, no? Lo mandano lì soltanto perché Mario Draghi gli deve trovare posto a sto peso che si è sacrificato per lui, qualche modo lo devono salvare, sto poveraccio che si è dilaniato per la causa, no? Lo so che pensate questo, ma invece siete maliziosi e anche avete un pizzico di cattiveria e sapete che è Natale, la cattiveria dovreste lasciarla fuori dalla porta, perché lui sta studiando, cioè tutti questi allenatori, è preparato, la preparazione è andata a buon fine, lui riesce a fare adesso 10.000 metri, fa la corsa con i sacchi pure, fa 10.000, fa 10 chilometri in meno di 20 minuti, cioè è informissima. Di Maio ha in testa, cosa ha in testa? Ha messo Di Maio in testa, ecco questo studio ha messo Di Maio in testa alla short list di cui fanno parte oltre ad Avramopoulos anche l'ex ministro degli esteri cipriota che si chiama Marcos Cipriano e il diplomatico slovacco Jan Kubis, ecco quindi c'è questo trittico di fenomeni che vogliono arrivare lì, uno è Di Maio che è in vantaggio per chi ha studiato, c'è Segui, c'è quell'altro che lo allenano dalla mattina alla sera, gli altri non si allenano tanto, Marcos Cipriano, non c'è manco un allenatore, Jan Kubis, chi lo conosce? Io conoscevo Kubic, quello della Fiorentina degli anni 80, ma questo è uno sconosciuto, dove deve andare? Meglio Di Maio. Sul piano politico uno che ha fatto il ministro degli esteri per tre anni, ecco non è che ha fatto tre anni di militare a Cunio, ha fatto tre anni di ministro, risponde ai requisiti sul piano politico, sul piano tecnico, insomma, sul piano tecnico, bene ma non benissimo. Di Maio ha detto a Le Monde, un ex manager dell'energia italiana, non ha le basi per capire i dossier di energia, ma perché chi ve lo dice che Di Maio, se va via la corrente a casa sua, non è in grado di riattivarla, c'è chi ve lo dice che non capisce niente. È considerato uno che studia e si applica, come a scuola. Dicevano, vabbè, non è intelligente, però impara tutto a memoria. In realtà l'incarico è nebuloso, gli stati produttori continuano a trattare con le compagnie nazionali. L'handicap più importante rimane però la presa di distanza di Tajani. Borrell, infatti, potrebbe esitare a proporre un nome non gradito a uno dei paesi di fondatori, ma il povero Gigino non piace neanche agli Emirati Arabi, dove vive il ricordo della crisi diplomatica del 2021, innescata dal blocco all'export di armi deciso proprio da Di Maio. Ecco, guardate che bella dichiarazione che hanno fatto questi degli Emirati Arabi, c'è la nomina di Di Maio come inviato della UE nel Golfo, deve nascondere un senso europeo dell'ironia che mi sfugge. Ecco, far ridere tutta l'Arabia, far ridere tutti, anche gli Emirati Arabi far ridere, poi magari rideranno anche in Arabia Saudita, in Iraq, rideranno dappertutto. E questo lo ha detto tale Mohamed Baron, che dirige il centro di ricerca politica di Dubai. Ecco, però, insomma, l'uscita di scena di Avramopoulos, che è quello lì, insomma, del giro la di Panzeri e delle ONG, rende credibile la candidatura di Luigi Di Maio. Io vorrei che tutto il paese in questo momento si stringesse intorno a Gigino Di Maio, perché sarebbe proprio, darebbe lustro a tutti noi sapere che un uomo così intelligente, così in gamba, diventa responsabile per l'energia nel Golfo Persico, per l'Unione Europea. Ecco, quindi speriamo, sta studiando, proprio in questo momento, mentre voi giocate, scherzate o fate l'area di Natale, quello sta studiando con l'allenatore del pallone, per cui premiamo lo sforzo di Luigi Di Maio. Ecco, facciamolo. Al di là del governo di destra, di sinistra, non ha importanza. Il Corriere della Sera, ecco, prima di andare a leggervi un'altra stupidaggine di Natale, che vi ricordate che l'anno scorso le facevano bene, queste cose, no? Che dovevamo andare a Natale a vedere i parenti, però col Covid, dovevamo mangiare con la mascherina, poi dicevano di aprire la finestra con 10 gradi sotto zero con la nonna, magari che non piglia il Covid, ma piglia la bronchite, per fare cambiare l'aria. Prima di leggere questi consigli da idioti, ecco, vi segnalo soltanto che il Corriere della Sera punge Macron per la storia del canale con Mosca. Ecco, Macron è uno di quelli che sta cercando di continuare ad aprire, a tenere aperto un canale di dialogo con la Russia e questa cosa, diciamo, al Corriere non va giù. Giustamente Macron dice che i negoziati si fanno con il potenziale nemico e lui non vuole che siano solo i cinesi e i turchi a ritagliarsi uno spazio diplomatico. Ecco, fa impressione notare come il più serio in Europa, cioè quello che sembra più lucido alla fine, sia Emmanuel Macron. Ecco, questo dimostra proprio la gravissima crisi della nostra classe politica, dove uno come Macron, non sembra un fenomeno, non sembra De Gaulle, però è più lucido di tutti gli altri e cerca di tenere aperta una fiammella diplomatica in un momento così complicato per il nostro paese. Ora andiamoci a leggere questi bei consigli che ci dà Margherita De Bac su come proteggere se stessi e gli altri durante le feste. Dall'influenza al Covid, dice il test, come sicurezza in più, dice le accortezze per i bimbi di età inferiore agli otto mesi. Cioè questi come se non fossero passati tre anni, come se non ci fossimo accorti tutti gli imbrogli che hanno detto, come se non sapessero che ci sono studi in tutto il mondo che testimoniano il fallimento di questa isterica campagna vaccinale, continuano sempre all'infinito e anche questo Natale vogliono rovinarcelo con delle dichiarazioni folli e oggi ha preso questo elemento, questo Giovanni Rezza, che è direttore della prevenzione alla salute del Ministero della Salute per fare una serie di domande idiote. La prima è fare o no il tampone per trascorrere in sicurezza i giorni di festa che coincidono con una fase di intensa circolazione del SARS-CoV-2? Ecco, Rezza dice se sono presenti sintomi respiratori, meglio, certo, se non riuscite a respirare, se siete con l'ossigeno e avete la febbre a 40, perché andare in giro? Ecco, vedete che consiglio da scienziato che ci dà. Nei luoghi chiusi, dice, è difficile difendersi dal virus, a meno che di non girare in casa con la mascherina, il che appare ridicolo una volta che a tavola ci si deve comunque scoprire. E allora non era ridicolo pure costringere la gente a entrare con la mascherina nel ristorante e poi togliersela per mangiare? Cioè è ridicolo ora e invece prima come eravamo? Anche se non ci sono sintomi da raffreddamento, insiste Margherita, come mal di gola o tosse, dice, ha senso accertare la negatività per sentirsi più tranquilli? Per sentirsi più tranquilli basterebbe non dare retta a te e a Gianni Rezza, così saremmo tranquillissimi. Il tampone rapido, dice, seguito in farmacia può dare un certo grado di sicurezza psicologica in più, teniamo conto, come dire, voi lo fate, giusto se vi volete sentire tranquilli voi, però non serve a niente. Dice, ancora utile vaccinarsi contro l'influenza? Dice, è tardi, sì, sempre utile vaccinarsi, tenendo conto che ci vorranno una decina di giorni prima che il sistema immunitario attivi una reazione. Vaccinarsi oggi significa che a Capodanno ci difenderemo meglio dai sintomi gravi dell'infezione, questo vale anche per i bambini. Ecco, questo è il passaggio più pericoloso, perché non dimentichiamo la quarta dose del vaccino anti-Covid, raccomandata ad anziani e soggetti vulnerabili. Non cadete in questo errore, non credete a questa gente, non vi fate dosi ripetute di questo prodotto che già non funzionava all'inizio della pandemia. Figuratevi che effetto di protezione può avere adesso, dopo che sono venute fuori un numero infinito di varianti. Non date retta a questi personaggi che cercano di difendere l'indifendibile, non ha nessun senso ripetere questo tipo di vaccinazione per sempre. Poi parlano delle mascherine, che è utile, insomma, le solite stupidaggine. Poi ossessionano i bambini dando voce a questo Alberto Villani, che è stato uno dei personaggi peggioni nel corso della pandemia, che anziché difendere i ragazzini e spiegare che era una follia esporli ad una vaccinazione inutile, con gravi rischi di miocardite, è stato uno di quelli che invece ha più di tutti usato il suo ruolo per giustificare la discriminazione dei ragazzini che non volevano sottoporsi a questo inutile rito vaccinale. Ecco, ossessionano i bambini dicendo che sono piene di bronchiolite, che non c'è il vaccino per la bronchiolite, ecco che è in fase sperimentale, quindi già stanno preparando, diciamo, nuovi vaccini per i ragazzini. Chiudiamo la rassegna di oggi con il fatto quotidiano. Eccolo qui, dice Nordio, parla come la P2, così niente più indagini. Con le sue riforme impossibile l'inchiesta su G8, Lega e Ponte, repertorio di Gelli, Berlusconi chiama Sisto per lo scudo agli evasori. Quindi torna il vecchio amore, il fatto quotidiano, insomma quello dell'utilizzo, come dire, del giustizialismo fino a se stesso come unica ragione d'essere di una certa classe politica. Anche loro però sul piano geopolitico dicono una cosa vera, ecco oggi scrivono un articolo buono e uno molto cattivo, questi del fatto. Quello buono è questo, dice Zelesky torna a mani vuote, dietro lo show solo i Patriot, il pezzo è di Michela Iaccarino, dice riceverà i Patriot dagli alleati statunitensi, dice ma avverte che ne richiederà presto altri. Gli è stata tributata un'accoglienza, dice, in stile hollywoodiano. Zelesky però non viene accontentato del tutto, una precisa e ambitalista di regali per Natale, Kiev l'aveva, si chiedevano cinque sistemi bellici, mezzi di fanteria, carri armati, ecco solo l'ultimo desiderio è stato accontentato, quello dei Patriot, quindi insomma alla fine Zelesky non è che torna a casa proprio contento. I carri armati agli ucraini non glieli vogliono dare nemmeno gli europei, non glieli vogliono dare i tedeschi, che vogliono tenere la Nato fuori dal conflitto diretto con la Russia, poi secondo il Fatto Quotidiano sarebbero tre i modelli per la fine del conflitto valutati a Washington, il primo include il ritiro totale dei russi ai territori ucraini, Crimea inclusa, e questo mi pare che è una mera definizione di intenti senza nessuna possibilità di realizzazione, il secondo è il ritorno ai confini del 2014, c'è il ritiro dei russi dal Donbass ma non dalla penisola, Kiev si dice disposto solo al primo, dice uno scenario inaccettabile per Mosca che è furiosa, dice tutto è concesso al figlio di puttana dell'Occidente, dice Maria Zakarova, portavoce del Ministero degli Esteri, si tratta di una dichiarazione che riprende una vecchia affermazione, mi pare fosse di Roosevelt, che parlando di un autocrate sudamericano, un personaggetto, diceva sì è vero che questo personaggio è un figlio di puttana, dice ma è il nostro figlio di puttana, per cui lo dobbiamo difendere, quindi c'è una citazione colta che viene spacciata come mera volgarità da parte del mainstream, che non conoscendo, non avendo strumenti né storici né geopolitici, confonde un'affermazione, una dichiarazione colta per una manifestazione di volgarità fine a se stessa. Dice a Washington, Zelensky ha ribadito che se non viene fermato Putin conquisterà altri territori dell'ex Unione Sovietica, gli fa eco la Polonia che è uno dei paesi più aggressivi contro i russi, dice se Kiev cade Mosca avrà campo libero per conquistare l'Europa, dice in Polonia che ieri il Presidente ucraino si è fermato per incontrare l'omologo polacco Duda prima di rientrare in patria, che ora potrebbe continuare una specie di tour teatrale, Zelensky potrebbe andare in Gran Bretagna, Germania, Francia, insomma ora se ne deve andare un po' in giro dappertutto per orare all'infinito la causa di una guerra che non avrebbe mai avuto ragione di essere. Chiudiamo la rassegna con questo articolo, ecco dispiace vedere come il Fatto Quotidiano continui fuori tempo massimo a legittimare l'isteria da coronavirus, io mi rendo conto che loro lo fanno anche per tutelare Giuseppe Conte che è stato il principale responsabile delle chiusure, dei lockdown, c'è l'uomo che porta maggiori responsabilità rispetto all'abolizione dei nostri diritti naturali in epoca psicopandemica, però utilizzare ora, far credere ora che la Cina sia disperata per il Covid, per tentare di continuare a tenere in piedi un'emergenza che oramai nessuno riconosce come tale, è davvero un'impresa disperata, dice Covid, il ritorno di fiamma a Shanghai, infetterà tutti, come nel 2020, il conto dei morti per coronavirus è fermo ma sui social girano file di bare e forni crematori, dice l'allarme dell'OMS, dateci i dati, non vi fa onore continuare a tenere in piedi questa mistificazione anche perché la verità è che la Cina sbagliava quando continuava a tenere tutti dentro, sbagliava con la strategia dello zero Covid che era fallimentare, adesso la base di proteste più che legittime hanno cominciato a fare vivere la gente e dare la colpa alle persone che vogliono vivere, al ritorno di fiamma del Covid, come se fosse responsabilità di persone che non vogliono per sempre vivere in casa, è davvero sbagliato sul piano giornalistico e anche sul piano del rispetto di se stessi, dovreste finirla di utilizzare queste tecniche che sono tipiche di Repubblico, al limite del Corriere della Sera, ma un giornale come il Fatto Quotidiano, io capisco che bisogna difendere i conti in qualche modo, ma non ha ragione di essere e continuare con questa pantomima e di sicuro non vi fa onore. Va bene, grazie cari amici, finisce qui il nostro controcanto, io vi auguro buone feste e buon Natale, con il controcanto torniamo a martedì 11, con la nuova stagione il controcanto subirà qualche cambiamento, sto pensando, poi ne ragioneremo insieme, però potrebbero esserci delle novità presto che riguardano questo nostro format, io vi abbraccio tutti, vi auguro davvero di passare delle buone feste, se volete fare un regalo a Visione TV potete farlo donando i numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione, potete andare sul nostro sito www.visionedv.it e abbonarvi, entrando così a far parte della nostra grande famiglia, anche oggi interviste, approfondimenti, alle 18 con Toscano Raddoppia, ci facciamo gli auguri insieme e prepariamo, discutiamo di quello che è stato e prepariamo il prossimo anno. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata. Grazie a tutti voi, una buona giornata. Grazie a tutti voi.